Il nuovo appuntamento del Centro Studi Giuseppe Federici, dopo un piccolo periodo di assenza sulla scena pubblica, riprendiamo questa serie, queste conferenze che si pongono nella linea ideale della battaglia che fu già della persona, fu già dell'insorgente Giuseppe Federici sul piano delle idee questa volta, non essendo più il caso, non potendo neanche più farlo sotto altri profili. Ricominciamo con la presentazione di questo libro del dottor Mauro Stenico, La meraviglia cosmica. È un libro complesso, che si pone a cavallo fra diverse discipline la filosofia, la filosofia della scienza, l'epistemologia, la storia delle dottrine scientifiche ma volendo cavalcare questa varietà di discipline, prende lo spunto dal senso di meraviglia, dal senso di meraviglia che qualsiasi studioso ha nei confronti dell'osservazione del cosmo, della realtà che lo circola. Chiunque ha fatto esperienza del clima culturale che si respira nella nostra università si sarà reso conto di come il pensiero illuminante si rifaccia ancora purtroppo alle dottrine filosofiche che erano in voga alla fine dell'Ottocento. È come se la nostra scuola, la nostra università si fosse fermata a un secolo e mezzo fa, in pratica. Ecco, il dottor Stenico prende un po', ecco, accoglie la sfida che viene da questo mondo universitario per dare invece una possibilità di una lettura diversa che ci può essere nel rapporto fra scienza e fede. L'autore ha una laurea magistrale in filosofia, leggo perché è un curriculum molto complesso, è un dottorato di ricerca in politica e storia delle scienze presso l'Università di Trento e presso la Wolfgang Goethe Universitat di Francoforte. Attualmente è anche cultore di storia della filosofia presso l'Università di Trento e unisce, associa a queste sue competenze scientifiche anche il servizio come amministratore che fa nel comune di Fornace dove abita. Il libro è un libro molto, come dire, ricco, ricco di personaggi che fanno parte della storia del pensiero. Alcuni li abbiamo conosciuti sui banchi dell'università, magari alcuni ci sono piaciuti, altri, scusa, della scuola, alcuni ci sono piaciuti, altri non ci sono piaciuti, no? Ma tutti quanti, alcuni insomma hanno come una sorta di preminenza nel libro. Di questi ci parlerà, io mi sembra di aver intuito che molta attenzione viene data a Piccard e a Lemaitre, no? Lemaitre anche nel cognome porta in qualche modo il segno di un destino, no? Il maestro. Così facendo cabotaggio fra la scienza e la filosofia e la teologia, siamo condotti a considerare che pur nella fragilità che ci contraddistingue come esseri umani, l'antropocentrismo, il geocentrismo che è tipico del pensiero cristiano ha ancora questa valenza, appunto, centrale, se non altro dal punto di di vista morale, se non più dal punto di vista delle scienze. Vorrei citare appena appena insomma un piccolo passaggio che il dottor Stenico ha preso da Pascal. L'uomo non è che una canna, la più debole della natura, ma è una canna pensante. Non c'è bisogno che tutto l'universo sarmi a schiacciarlo, un vapore, una goccia, acqua, basta ucciderlo. Ma anche se l'universo lo schiacciasse, l'uomo sarebbe ancora più nobile di chi lo uccide, perché sa di morire e conosce la superiorità dell'universo su di lui, l'universo invece non ne sa niente. Quindi siamo come condotti, ecco, dalla meraviglia, dalla meraviglia lo stupore. Lo stupore è la cosa piccola che noi siamo, che però è capace di comprendere questa grandiosità che ci circonda. E da qui il salto che si può fare al divino poi è un salto semplice, nel senso che la libertà, insomma, che la scienza rivendica è una libertà di cui non possiamo avere timore, perché è la libertà che ci consente di fare conoscenza di una realtà divina che non può essere mai in contrasto con le nostre conoscenze, perché è l'autore di ciò che noi indaghiamo. Quindi lascio la parola al dottor Stenico per la presentazione del libro. Grazie. Grazie e buongiorno a tutti innanzitutto. Buonasera, secondo alcuni, essendo le quattro e da circa pomeridiane non si sa bene se dire buongiorno o buonasera, quindi dirò entrambe le cose. Devo ringraziare subito Giampiero perché ha fatto una presentazione veramente efficace, ha centrato il punto del libro e molto spesso voi sapete che alcuni autori pubblicano dei libri, degli scritti, ma non saprebbero riassumere il senso stesso dei loro scritti con poche parole. Credo che Giampiero abbia fatto in ciò un ottimo lavoro e quindi lo ringrazio. Prima ancora di parlare dell'obiettivo di questo libro, io farei un inquadramento generale dell'opera, dunque si chiama La meraviglia cosmica. È un libro che non presenta formule, quindi è un libro divulgativo, ossia è fatto anche per essere compreso da chi non ha strumenti tecnico-specialistici, nel senso che per ragionare sull'universo, sulla filosofia, non necessariamente si deve essere matematici, si deve essere fisici, si deve essere chimici, ma forse neanche filosofi di professione. Basta essere uomini, uomini che si pongono alcuni interrogativi di senso sul cosmo stesso, sulla natura stessa in generale. Tra l'altro qui, dico, aprendo una parentesi, che la parola stesso cosmo che noi utilizziamo nasconde, anche se non lo sappiamo spesso, già una presa di posizione sul mondo. Nel senso che se io facessi una piccola indagine e chiedessi ai presenti, non lo farò perché non si conviene, insomma, non è un'aula scolastica, quanti sanno la derivazione, l'etimologia della parola cosmo? Non so se tutti sarebbero in grado di rispondere. Io stesso, fino a qualche anno fa, non conoscevo il significato. Ebbene, cosmo deriva dal greco cosmos, che significa ordine, l'ordine. Si dice, questa è la tradizione filosofica che si è stato Pitagora il primo ad utilizzare la parola cosmo, cosmos in quel caso, per disegnare i cieli. Perché? Perché osservando i cieli, gli antichi, ma le culture più varie del mondo, americane, africane, europee, eccetera, notavano delle regolarità, notavano un ordine nel movimento dei corpi celesti. Salvo alcuni corpi un po' così vogliamo dire indisciplinati, che erano i pianeti che erano dotati di movimenti particolari. Le stelle presentavano un movimento regolare e questa regolarità rimandava ad un'idea di ordine, un ordine che non poteva sorgere dalla materia stessa, ma da qualcos'altro, in quel caso da qualcuno, un grande legislatore che aveva posto in essere delle leggi per l'universo. Allora, il titolo del libro è La meraviglia cosmica, nel senso che la prima cosa di cui uno può meravigliarsi, osservando l'universo, è che l'universo funziona. Un universo funzionante, un'opera funzionante, richiede un progetto, richiede quindi qualcuno o qualcosa che abbia pensato a quel progetto stesso. Io sono solito fare un paragone piccolo, giusto per aprire il discorso, e cioè, che è poi riportato anche in una delle pagine del libro, se noi andassimo in un deserto e in un deserto trovassimo un tavolo con sopra una torta, certo non saremmo tanto ingeni da dire che quella torta si sia creata dal caso e che il tavolo si sia portato lì da solo, però a volte siamo talmente audaci da ritenere che l'universo stesso, tutto l'universo, che comprende tutte le possibili torte che voi potete immaginare, sia assorto dal caso. Anche qui una domanda interessante potrebbe essere, ma che cos'è il caso? Coloro che dicono che tutto è assorto dal caso, che cosa intendono quando parlano di caso? C'è una definizione? A volte il caso stesso sembra essere preso quasi in senso divino, ma chi parla del caso come regime del tutto, se interrogato, ripeto, per lo più non sa rispondere alla domanda che cosa sia il caso. L'obiettivo del testo è quello di dimostrare che le scienze naturali, contrariamente a quello che avventate affermazioni, insomma, di varie persone possono far supporre, non chiudono le porte ad un oltre, ma lasciano aperte le porte ad una dimensione che va al di là della materia, della natura stessa. Ed è proprio quello che si è cercato di fare in questo testo prendendo come riferimento la cosmologia contemporanea. Parleremo infatti di Big Bang anche, tra parentesi, non solo di Big Bang, ma anche di quello. Prima però di cominciare, io vorrei così illustrare brevemente l'indice del testo. Dunque, il testo si compone di una introduzione, che vabbè non toccherò dal momento che è la parte meno interessante, un capitolo che è intitolato Scienze naturali, metafisica e teologia. E uno dice che cos'è la metafisica? Perché alla fisica posso arrivare, ma la metafisica che è? E come fai a mettere in connessione la metafisica con le scienze, con la teologia? Bella domanda, infatti parleremo. Un secondo capitolo, l'identità umana nel creato fisico. Allora, non doveva essere un libro di cosmologia? E identità umana? Terzo, forse più comprensibile, il terzo capitolo si intitola l'universo fisico. Allora qui sembra che evidentemente si stia entrando proprio nel bel mezzo dell'argomento. Si parla del concetto di creazione del mondo, della teoria del Big Bang e poi di altre cose, ma il quarto capitolo è intitolato il cosmos dei viventi. Cosa vuol dire? Che l'universo stesso racchiude, se volete, una sorta di sottouniverso, è un po' un concetto azzardato, che è quello dei viventi. Nel senso che l'universo stesso non è un'opera inerte, ma al suo interno ospita delle forme viventi. Segue poi infine una conclusione. Dunque, nell'introduzione io comincio parlando della distrazione della civiltà moderna, che è un problema molto molto grave. Sapete, oggi noi viviamo in una civiltà nella quale si deve correre. La cosa importante è correre, non fermarsi mai. Anzi, quando abbiamo raggiunto un obiettivo, subito siamo richiamati all'obiettivo successivo, qualunque esso sia, per esempio nell'attività professionale. Non abbiamo il tempo di pensare, non ci fermiamo a riflettere sulle cose del nostro mondo, per esempio quanti di noi ultimamente hanno mai osservato il cielo stellato, o magari un tramonto affascinante, o le montagne, le cime delle montagne innevate, si sono posti delle domande, per esempio, sulla meraviglia che queste immagini suscitano. No, non lo facciamo. Perché? Perché siamo distratti. Non sto dicendo che sia colpa nostra, assolutamente, magari alcuni di noi non vorrebbero affatto, ma siamo all'interno di questa corrente dalla quale spesso ci lasciamo trascinare. Ed è un problema. Perché è un problema? Perché ci impedisce di espletare la funzione che prima fra tutte ci attenderebbe come uomini, e cioè quella di pensare, di ragionare. Aristotele diceva che la virtù propria dell'uomo e che rende l'uomo perfetto è il pensare. Perché diceva Aristotele? L'uomo è vero che è un animale, ma attenzione, al contrario di quanto teorie ecologistiche attuali vogliono far supporre, l'uomo non è un animale, punto e basta. È un animale razionale, e già avere la ragione denota una differenza ontologica, ontologica vuol dire di perfezione in filosofia, rispetto a forme animali che non hanno la ragione, e specialmente rispetto alla materia inerte, che non solo non ha la ragione, ma nemmeno è viva. Ora, il sapere. Nel primo capitolo si parla di scienze naturali, metafisica e teologia. L'uomo, usando la ragione, arriva a conoscere, a sapere. Dove per Aristotele sapere, conoscere, significa conoscere le cause delle cose. La scienza, come la definivano gli scolastici, era, e io oserei dire è, la cognizio certa rerum per causa. Cosa vuol dire traduco? La conoscenza certa delle cose attraverso il possesso delle loro cause. Cioè io conosco il fenomeno quando conosco le cause, cioè il loro perché. Aristotele diceva, in uno dei suoi testi più belli, ma lo ammetto io stesso, difficili, difficilissime, tra l'altro anche in alcune parti barbosi, che è la metafisica, che un conto è osservare il fenomeno dell'eclissi di luna. Tutti ne siamo in grado. Un conto è conoscere perché avviene tale fenomeno. Ecco, se volete, il pensatore, l'uomo, a volte si chiede proprio il perché avvenga questo. Ed è un atteggiamento, specialmente, che noi ritroviamo presso i bambini. Tutti noi stiamo stati a contatto con dei bambini. Qual è la cosa più insistente, anche più bella, se volete, dei bambini? È il chiedersi il perché. Perché, 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 perché questo, anche nelle cose più semplici. Il sapere è, certo, attenzione, non deve diventare lo scopo della nostra vita. Cioè lo scopo della nostra vita, specialmente per noi che siamo cristiani, è un altro, è superiore al sapere stesso. Diceva Gesù, se uno va a leggere il Vangelo di Luca 9,25, è una frase importantissima, che probabilmente credo anche i non cristiani potrebbero sottoscrivere. A che serve all'uomo guadagnare il mondo intero se poi finisse per perdere se stesso? Ci sono uomini che per la foga di conoscere, di lavorare, eccetera, hanno perso anche la loro stessa famiglia, hanno trascurato i loro stessi figli, hanno trascurato i loro doveri, come maritti magari, come mogli, come figli, come genitori. Questo sapere, tra l'altro, è un'opera imperfetta, perché l'uomo può conoscere, ma non conoscerà mai tutto. Questo sapere sembra non aver fine, in che senso? Nel senso che ogni secolo basta analizzare storia della scienza rispetto a qualunque disciplina si voglia, la chimica e la fisica, vengono scoperte nuove teorie che presentano dei punti oscuri, è così anche per le teorie attuali, il Big Bang preferirei presentarlo onestamente non come teoria, ma quasi come ipotesi, nel senso che presenta vari difetti. Nuove teorie sorbono e rimpiazzano quelle attuali nel sapere delle scienze naturali, eccetera. Il sapere che noi oggi possediamo sul mondo, magari tra cento anni farà ridere. Oggi parliamo del Big Bang, dell'universo nato da questa esplosione che la scienza non spiega perché, e non può farlo, sia avvenuta. Magari tra cento anni sarà una teoria che farà ridere. Presenta vari punti oscuri, ma attenzione, va anche affrontato, questo è importante, è per quello che io parlavo anche dello sguardo al cielo stellato ogni tanto, non tanto per ragioni poetiche, sì, se volete può esserci anche quello, con la prospettiva dell'umiltà. In che senso? Nel senso che uno sia credente o non credente, noi siamo ospiti dell'universo, non l'abbiamo fatto noi l'universo, quindi cerchiamo di conoscere quest'opera dall'interno stesso dell'universo. E la nostra è una posizione umile. Se voi osservate lo schema che ho preparato e andate nel capitoletto intitolato il sapere, trovate ad un certo punto un puntino, un pallino con scritto, va affrontata questa attività tenendo presente l'umile posizione dell'uomo nel cosmo. Allora, la Terra è un pianeta che fa parte di un sistema che è chiamato il sistema solare e questo, vabbè, lo sanno tutti. Il sistema solare, a sua volta, fa parte di un sistema più grande che è la Via Lattea. La Via Lattea è la galassia che ci ospita e che ospita il suo interno almeno si ritiene 200 miliardi di stelle. 200 miliardi di stelle. Ma la Via Lattea, a sua volta, fa parte di un altro sistema che racchiude più galassie, che è il gruppo locale. È un sistema vastissimo. Il gruppo locale, a sua volta, fa parte di un sistema ancora più grosso che racchiude milioni di galassie, che è il super ammasso locale. Quindi veramente siamo quasi un granellino di polvere all'interno di un oceano. E come si può affrontare questo sapere, questa missione, se volete, del conoscere? Io qui ho indicato tre possibili prospettive. Ce ne sono altre, ma queste sono le tre che racchiudono tutte le varie declinazioni. Il primo è quello, l'atteggiamento della superbia, che io vedo in un autore che conclude una sua opera del 2004, dicendo che un giorno noi arriveremo ad ottenere una teoria del tutto, theory of everything, vuol dire letteralmente una teoria del tutto, cioè che con poche equazioni, o se possibile una sola, possa spiegare la realtà tutta. E che arriva a dire, al termine di un suo libro, che raggiungeremo un giorno il definitivo trionfo della ragione umana, poiché allora conosceremo il pensiero stesso di Dio. Quindi noi arriveremo ad esaurire tutto lo scibile, tutto ciò che Dio potrebbe sapere sull'universo stesso. Tra l'altro, sottolineo che l'autore di cui stiamo parlando non è neanche credente, anzi qualcuno diceva fosse agnostico, in realtà io direi che è proprio ateo. La seconda possibilità è quella del pessimismo, Blaise Pascal, già un po' più motivata se volete, ma pessimista. Pascal nei suoi pensieri, Pascal tra l'altro, non do per scontato che tutti conoscano chi sia, fu un filosofo vissuto nel XVII secolo, 1623-1662, morì molto giovane, a 39 anni, era malato dalla prima gioventù e dice quello che è stato anche detto. L'uomo non è che una canna, la più debole della natura, ma è una canna pensante, quindi l'uomo ha una dività, che è il pensare. Non c'è bisogno che tutto l'universo si armi per schiacciarlo, un vapore, una boccia d'acqua, basta ucciderlo, ma anche se un universo lo schiacciasse, l'uomo sarebbe ancora più nobile di chi lo uccide, perché sa di morire e conosce la superiorità dell'universo su di lui. L'universo invece non ne sa niente, tutta la nostra dignità consiste dunque nel pensiero. Ecco, io non sono d'accordo su questa parte finale, voglio solo esporre un tipo di prospettiva, cioè che tutta la nostra dignità consista nel pensiero, cioè l'uomo, come detto, è anche altro. Anche perché se veramente la nostra dignità fosse solo nel pensare, e noi abbiamo detto prima che non è l'obiettivo della vita, è un'attività nobile ma non l'obiettivo, che dire di quelle persone che per una serie di ragioni fisiche magari hanno perso la possibilità di pensare, tipo i malati, di Alzheimer, eccetera, non possiamo fare l'equazione essere umano uguale pensare, possiamo dire che c'è un essere umano che di per sé ha la facoltà di pensare, solo che in quel momento a causa di una malattia, per esempio una deformazione del cervello, non è più in grado di esplicare questa facoltà, quello sì possiamo dirlo. E poi c'è l'atteggiamento che io chiamo, in realtà è lui stesso a dirlo in altre opere, dell'ottimismo cristiano che è quello di Georges Lemaitre. Georges Lemaitre fu un sacerdote cattolico belga, nato nel 1894, morto nel 1966 e anche se molti non lo sanno e molti non lo vogliono dire, e questo mi dispiace perché la scienza e la storia della scienza richiedono anche onestà intellettuale, perché ci sono dei documenti che parlano, è stato uno dei padri, forse il primo si può dire, della formulazione fisica della teoria del Big Bang, quindi il paradigma cosmologico attuale che noi possediamo sull'universo, il Big Bang, è stato formulato fisicamente da questo Georges Lemaitre, da questo sacerdote cattolico che era fra l'altro anche un cosmologo che, anche qui apro una parentesi, godeva della stima di scienziati e autori di primo ordine che cristiani assolutamente non erano. Per esempio un astronomo britannico molto importante, che sicuramente non era cattolico, era un quacchero, che fu Arthur Eddington, uno degli astronomi più importanti della storia inglese e della storia dell'astronomia anche contemporanea. Ebbene che cosa dice Lemaitre? Considerate che scrive nel 1929, conclude quest'opera intitolata La grandezza dello spazio, non è possibile terminare la rapida panoramica che abbiamo fornito sull'oggetto più grandioso che possa tentare il genio dell'uomo, per lui è l'universo, senza sentirsi fieri dei magnifici sforzi della scienza alla conquista della verità e senza esprimere altrissì la nostra gratitudine verso colui, quel colui e con la C maiuscola, che ha detto io sono la verità, che ci ha donato l'intelligenza per conoscerlo e per leggere un riflesso della sua gloria nel nostro universo, che egli ha così meravigliosamente adattato alle facoltà conoscitive che ci ha donato. Lemaitre dice l'universo è un'opera meravigliosa, qualcuno ci ha creato e ci ha dato anche gli strumenti per poterlo conoscere. E tra parentesi Lemaitre godeva anche della stima di Albert Einstein, anche di lui non possiamo dire che certamente fosse cattolico, ma che veramente riconoscesse allora il genio lemaitreano. Ma attenzione, noi abbiamo parlato in precedenza di metafisica, allora uno si fa la domanda, e chi è la metafisica? Aristotele cercò di dare una sistematizzazione di questi concetti. Aristotele vive nel IV secolo a.C. e fa una distinzione, lui non usa questi nomi, tranne quello di fisica forse, ma metafisica non è un termine suo, arriverà molto molto tempo dopo. La fisica è la parte in pratica della scienza, o se volete la scienza che si occupa delle cose che cadono sotto il dominio dei sensi, per esempio il movimento dei pianeti, eccetera, eccetera, il ciclo della luna e così via. La metafisica studia i principi stessi della realtà e del nostro conoscere anche la realtà, se volete. Per esempio il principio di non contraddizione, per esempio il motore immobile. Il motore immobile che per Aristotele è Dio, che dà le leggi al nostro stesso universo, non è un oggetto accessibile alla fisica. Qualcuno ha mai visto il motore immobile di Aristotele? No, è un oggetto, io dico oggetto, perdonatemi il termine che è molto riduttivo, al quale arriviamo usando la ragione, perché dovete sapere che il cristianesimo, dovete sapere in realtà, molti lo sapranno di già, non è fideistico, al contrario di quante certi correnti vorrebbero far credere. Perché? Perché è vero che per Dio noi abbiamo le prove di fede, è vero. Per esempio i Vangeli, i miracoli e anche gli storici, che parlano dei fatti contemporanei narrati nei Vangeli. Abbiamo le lettere di San Paolo, dove ci viene detto, per esempio, che l'atto della creazione del mondo è un atto che noi accettiamo per fede e che non possiamo dimostrare con la ragione. Ed è vero, a partire del mondo io non posso dimostrare che il mondo è stato creato dal nulla. Lo dice San Paolo nella lettera agli ebrei. Però, all'esistenza di Dio, e su questo punto anche San Pio X si batte costantemente, noi possiamo arrivare anche con la ragione. Anzi, il primo articolo del giuramento antimodernista, che presenta vari articoli, proprio richiama la necessità di ammettere, la necessità, la missione in realtà, che la ragione stessa, come dice San Paolo all'inizio della lettera ai Romani, può arrivare a conoscere le perfezioni invisibili di Dio, metafisica, a partire dalle perfezioni visibili del creato. Esempio, vedo che l'universo presenta delle leggi che regolano i cicli naturali, le stagioni, eccetera, eccetera. Allora la ragione inferisce che deve esserci un'origine di queste leggi, quindi che Dio è anche, fra l'altro, un legislatore, cioè un'entità suprema che dà delle leggi. Ogni ente materiale possiede una causa, secondo Aristotele, quindi abbiamo una materia, una forma, che è ciò che fa essere quella cosa esattamente ciò che è, una causa efficiente, cioè un'origine, per esempio noi siamo stati prodotti dai nostri genitori, è una causa finale, un qualcosa per cui quell'ente è stato prodotto, generato, creato. Ogni ente fisico è un composto di materia e di forma, per esempio per l'uomo la materia è il corpo, quel qualcosa che fa funzionare il corpo e che dà origine a ragionamento al pensare è la forma, nel caso specifico l'anima. Attenzione anche a questo passaggio che è interessante, Aristotele propone una distinzione fondamentale tra la sostanza e gli accidenti. Ecco, qui dobbiamo aprire una parentesi. Diciamo che nel VI secolo a.C. aveva operato ad Efeso un filosofo che era Eraclito. Eraclito aveva messo in crisi tutta la filosofia possibile, dicendo guardate che in realtà, la realtà è un puro divenire nel quale nulla è stabile. Pantarei, tutto scorre, tutto è in costante mutamento. L'uomo che io ero un secondo fa, all'inizio magari anche di questa conferenza, non è più l'uomo che sono adesso. Come faccio a dire che io che sto parlando in questo momento sia lo stesso uomo di dieci minuti fa. Alcune delle mie cellule sono mutate, i miei pensieri sono mutati, l'aria che ispiro e respiro sono mutate. Eraclito diceva che tutto l'uomo è mutato, quindi non c'è niente di stabile nella realtà. Gli stessi valori, eccetera, eccetera. Sono delle cose che nascono per poi morire. E allora, guardate, questo era un problema importantissimo. Poi Eraclito compie anche altri passaggi, il suo sistema è molto più articolato e complesso, io sto solo semplificando. Si arriva ad un'epoca, che è quella di Aristotele, in cui Aristotele dice, è vero, è vero, sicuramente ci sono dei mutamenti. Però noi dobbiamo distinguere tra la sostanza, che è ciò che permane negli enti, e gli accidenti. Esempio, l'uomo, sostanza, presenta degli accidenti, che sono il colore dei capelli, magari una corporatura più o meno alta, che ne so, una pancia pronunciata o meno, le spalle larghe o le spalle strette, eccetera, una carnagione di un certo colore, eccetera, eccetera. Ora, questi accidenti possono mutare, ma la sostanza uomo permane la medesima. Ricordo, e qui vi permetto di richiamare un aneddoto che mi ha riguardato, nel senso che anni fa c'era Don Joslen, che chi frequenta l'Istituto Matermoni Consigli, conosce, mi diceva, io dieci anni fa avevo i capelli neri, adesso li ho bianchi, no? Quelli che ho, eppure sono sempre io, per spiegare che mutano gli accidenti, ma permane la sostanza. Ma attenzione, Aristotele ci dà anche un'idea del concetto di tempo, perché Aristotele non sta rinegando in tutto il mutamento, perché il mutamento c'è, mutamento o movimento, anzi Aristotele dice che proprio perché esiste il mutamento noi possiamo essere coscienti di quella dimensione che è quella del tempo. Difatti, che cosa misura il tempo? Il tempo, dice Aristotele, misura il movimento, anzi è la misura del movimento secondo il prima e il poi. In una realtà dove non ci fosse nessun mutamento, io prendo quella dell'eternità, per esempio, come riferimento, c'è il tempo? No, non può esserci il tempo. Qui il cristianesimo farà una sintesi, per quello che poi parlo anche di Sant'Omaso d'Aquino, una sintesi di tre dimensioni. La dimensione del tempo, la dimensione dell'eternità e, attenzione, questo è un concetto che molto spesso non viene preso in considerazione, la dimensione dell'eviternità. Allora, la dimensione del tempo è la dimensione degli enti che nascono e si corrompono e muoiono, diremo, la nostra. La dimensione dell'eviternità, che sta tra il tempo e la eternità, è la dimensione degli enti che sono immortali, esempio l'anima o gli angeli, ma che sono stati creati. La dimensione dell'eternità, che è propria soltanto di Dio, è la dimensione dell'ente, che non ha avuto origine, che è eterno e che non perirà e che non muterà mai. Addirittura, questo è bello da dire, è anche bello da osservare, nei libri, nei manuali, se vogliamo dire, di secoli fa e del Medioevo, quando si facevano delle rappresentazioni sull'universo, non si faceva soltanto il modello dell'universo fisico. La rappresentazione, molto spesso, e non dico che ciò accadesse sempre, la rappresentazione comprendeva l'universo fisico, uno aveva la Terra al centro, perché all'epoca si pensava così fosse, ma vabbè, insomma, era un errore, ma d'accordo così. La sfera dei pianeti, la sfera delle stelle fisse e, ad un certo punto, al di là delle stelle fisse, cominciava la dimensione dell'eviternità, quindi la rosa dei beati, prendo ad esempio Dante, eccetera, eccetera, con Dio, e dell'eternità. Quindi l'universo fisico era ricompreso in un universo metafisico. In pratica si lasciava raperta la porta, anche dal punto di vista visivo, all'oltre. E se oggi noi andiamo a parlare di uno scienziato, di un fisico, di questo oltre, ci riderebbe in faccia. Non dico tutti, eh, ma molti lo farebbero. Perché oggi, quando si parla di scienza, non si può, è un divieto assoluto, anzi, bisogna quasi vergognarsene, secondo molti, parlare di Dio, non si può parlare di anima, per l'amor del cielo, assolutamente. Perché? Perché non cade sotto il dominio dei sensi. Ma io vi chiedo, eh, no, non cade sotto il dominio dei sensi, perché gli ideali sì, eppure per gli ideali noi siamo pronti a morire. Quindi c'è qualcosa di oltre il dominio dei sensi. Ma la scienza di oggi, ahi noi, è stata ridotta alla dimensione materiale, empirica, un po' alla volta. Gli stessi scienziati cristiani, a me è capitato di parlare non con i premi Nobel, ovviamente, ma con alcuni pensatori, dicono i si stessi di non avere il coraggio a volte di esporsi su alcune prese di posizione. E ci sarebbero, ci sarebbero. Questo è un peccato, più che un problema è un peccato. Se noi parliamo di cosmologia, quindi veniamo proprio al tema che ci interessa più da vicino, perché un'intervista che ha preceduto il mio arrivo diceva che io avrei parlato di Big Bang, in realtà io ho parlato di qualcosa di più di Big Bang. Che cosa ci rivela la cosmologia? Innanzitutto che cos'è la cosmologia? La cosmologia è la scienza che si occupa dello studio dell'universo nel suo complesso. Essa può essere affrontata dal punto di vista fisico, matematico, ma anche dal punto di vista filosofico. Quando io mi faccio una domanda sull'origine dell'universo, non posso usare solo le formule. Sto chiedendo anche qualcosa che va al di là delle formule. Ora, che nell'universo ci sia un divenire, questo è testimoniato. Abbiamo visto Aristotele, abbiamo altri autori che non citerò, non entrerò in dettaglio. Per esempio Democrito di Abdera che diceva che l'universo nasce da un volteggiare caotico di atomi che si aggregano temporaneamente in uno spazio infinito e danno origine ad una serie infinita di mondi che nascono, muoiono, eccetera, eccetera, e ha diverse forme di vita. Quindi tutto sorge da un movimento caotico della materia. Pio XII, che delle scienze naturali si interessava moltissimo, ricordo fu pontefice dal 1939 al 1958. Parlando una volta a dei giovani, disse, vado a citare perché ovviamente non me lo ricordo a memoria, ecco siamo nel 1948, nel 1948, la crescente conoscenza del sistema periodico degli elementi chimici, lui studiava la chimica, la fisica, anche la cosmologia, veramente è stato un papa eccezionale dal punto di vista filosofico-scientifico, la scoperta delle irradiazioni corpuscolari degli elementi radioattivi, le nostre cognizioni intorno ai raggi cosmici, si tratta di varie entità fisiche, e alla perdita della libera energia dell'atomo nella sfera elettronica e nel nucleo. Tutto ciò, molto altro ancora, mostra con una chiarezza difficilmente superabile la mutabilità del cosmo, dell'universo come tale fino alle entità subatomiche del nucleo atomico. Un tempo si pensava che gli atomi stessi fossero inscindibili e immutabili, non è così. Il mondo è segnato con l'impronta della mutabilità, dell'origine e della fine del tempo. Dovremmo allora dire che torniamo ad Eraclita in quanto scorre? No, perché l'uomo che vive all'interno di questa realtà che diviene e che è una sostanza uomo, ha anche dei ruoli, delle funzioni che possono fargli acquisire stabilità, che danno un fondamento alla sua identità. E allora io ne ho indicati soprattutto tre. Io ho indicato prima di tutto la famiglia. La famiglia ci aiuta a dare identità. La famiglia, l'entità nella quale il singolo assume la responsabilità di altri esseri, secondo un legame indissolubile per cui il benessere materiale e spirituale di un membro si trasmette agli altri. E quanto sia importante la famiglia, lo mostra anche Gesù Cristo, che nacque figlio di Giuseppe e Maria, per trent'anni si assoggettò loro, quindi rispettando anche l'autorità genitoriale, prima di cominciare la sua missione pubblica quando invece dovete occuparsi di qualcosa di ben altro. Ma oltre alla famiglia, e qui pensiamo al dramma dei giovani e soprattutto delle persone, perché noi pensiamo solo ai giovani, delle persone di mezza età che vengono lasciate a margine, la professione. Allora la professione dà all'individuo la possibilità di porre le proprie risorse naturali e i propri talenti, e qui io amo sempre richiamare la parabola dei talenti di Gesù, perché è una parabola di una fecondità enorme, a disposizione della società. Allora qui faccio un richiamo, molti probabilmente non lo conosceranno, poco importa. Il professor Giacinto Auriti, nato nel 1923, morto nel 2006, parlava della nostra società come di una società disorganica, cosa vuol dire? Nella quale non viene riconosciuta l'autorità e il rispetto dei ruoli. Noi oggi siamo convinti che tutti possano fare tutto. No, noi nasciamo con delle predisposizioni, Cristianesimo parla con dei talenti, che dobbiamo mettere a frutto e che soprattutto una società organica dovrebbe darci la possibilità di mettere a frutto. Non tutti possiamo essere politici, non tutti possiamo essere ingegneri, non tutti possiamo essere tecnici, non tutti possiamo essere dei bravissimi operai, muratori. Ogni ruolo, ogni professione ha la propria dignità. E qual è il dramma di oggi? Che la professione è che purtroppo non vi è dato modo ai giovani di averne una e alle persone di mezza età vengono scartate e non hanno la possibilità di rientrare in questo mondo. E quindi nasce veramente quella malattia sociale che Auriti denunciava, che è legata anche alla povertà e alle altre dinamiche, che è quello del suicidio o da insolvenza oppure da depressione per la mancanza di ruolo nella società. Auriti diceva che se noi, e parlavo ancora prima della crisi economica attuale, quando tutto sembrava andare per il meglio e che mai nulla si sarebbe restato, siamo ancora negli anni 90, poi lo ripete più volte, se noi continueremo su questo passo, lui aveva già capito alcune dinamiche, alle future generazioni lasceremo l'alternativa tra due cose, il suicidio, la disperazione. Che cosa sta accadendo oggi? Beh, ci sono ancora alcune sacche di resistenza, ci sono ancora alcune persone fortunate che riescono a immettersi nel mondo del lavoro, ma guardiamo anche alla collettività. Certo, purtroppo l'immagine della collettività di oggi non è delle migliori. Ma poi c'è soprattutto il fondamento che è quello della fede. Ecco, la nostra vita ha veramente un senso quando noi pensiamo che i momenti stessi della nostra vita siano legati da uno sfondo che è quello dell'eternità. La malattia ci può colpire in qualsiasi istante, la miseria anche, la povertà anche, rovesci di fortuna. Ma l'idea che ci sia un qualcuno a cui possiamo rivolgerci anche nelle cose peggiori, certo non toglie il nostro dolore, perché guardate che la vita è anche sofferenza, non la toglierà, certo. Ma l'idea comunque che questo dolore abbia un senso e che possiamo donarlo, no? O farne uso e sperare qualcosa, quello cambia la nostra esistenza, la può cambiare. Però per questo serve la fede. E la fede per il mondo di oggi è veramente qualcosa di difficile, perché la fede vuol dire riconoscere la propria dipendenza. Per un mondo che ci abitua a essere protagonisti in tutto e per tutto di noi stessi, che ci dice diritti di qua, diritti di là, eccetera, riconoscere che dipendiamo da qualcuno di superiore a noi non è facile. A volte va al di là persino della stessa decisione personale. L'universo di certo, per quello che ci dice almeno la scienza adesso, rivela la traccia della contingenza. Cos'è vuol dire contingenza? Contingenza vuol dire la traccia della non eternità, del mutamento. Cosa ci dice la teoria del Big Bang? Secondo la teoria, o come ho detto prima forse dobbiamo parlare di ipotesi del Big Bang, la costituzione del cosmo, che vediamo adesso, sarebbe sorta fra 13 e 14 miliardi di anni fa, non si sa bene, ma poco importa visto le cifre in gioco. A partire da un'esplosione catastrofica, Big Bang vuol dire letteralmente il grande boom, il grande bang, avvenuta per chissà quali ragioni scientificamente parlando. Dunque, l'universo in cui viviamo non è eterno. Se c'è un argomento filosofico, una conclusione filosofica alla quale ci conduce il Big Bang è proprio quella della contingenza. Poi non bisogna commettere l'ingenuità, perché questo purtroppo è un discorso che alcuni divulgatori tentano di fare, io starei attento per la verità, e cioè identificare il Big Bang con la creazione, perché il Big Bang è un'ipotesi scientifica e basta. La creazione è un atto che si sposta su un altro piano, che è quello della metafisica. Quindi dire un evento fisico in evento metafisico, insomma, perlomeno ci vuole prudenza. L'Emet, come detto, fu uno dei padri della teoria del Big Bang, ma una delle critiche che venne fatta a L'Emet è tu come diavolo fai a essere cosmologo e sacerdote? Non trovi una contraddizione? Nel senso tu vai a leggere il Genesi, il Genesi ti dice che il mondo fu creato in sei giorni, bla bla bla, fu sera e fu mattina, poi il settimo Dio si riposò, e adesso tu hai a che fare con una cosmologia moderna che ti dice che la Via Lattea è una fra miliardi di miliardi di galassie, che l'universo, per come lo conosciamo, ha richiesto miliardi di anni di evoluzione. Non trovi un po' strano conciliare due cose? L'Emet dice semplicemente, ragazzi, si tratta di una diversità di linguaggio e di intenti. Qual è il compito della Bibbia? Insegnare una cosmogonia scientifica? Cioè dare un trattato di fisica? Alcuni purtroppo lo hanno ritenuto, ma non è così per la Chiesa. La Bibbia intende insegnare la dottrina per la salvezza dell'anima, non una teoria sull'universo. Eh ma allora perché parlare dei sei giorni? Perché la Genesi venne scritta per un popolo che non aveva una preparazione tecnico e specialistica fisica moderna. E allora se il racconto della Bibbia, del Genesi, al proposito dell'universo, fosse andato a dire a questo popolo che ricevete la Genesi per rivelazione, guardate che in realtà non è la Terra al centro dell'universo e il Sole gira attorno, ma il Sole al centro dell'universo e la Terra gira attorno, uomini che non avevano una preparazione specialistica avrebbero detto beh questa è una sciocchezza, allora tutto ciò che contiene il messaggio rivelato non è una rivelazione ma è semplicemente una fandonia. Quindi dal punto di vista delle scienze geologiche e cosmologiche, certo che il Genesi contiene dell'imprecisione. Questo sì, perché non è l'obiettivo. Il vero obiettivo del Genesi è far capire quel rapporto di dipendenza che c'è tra l'universo creato e Dio. Questo è il punto focale. In principio Dio creò il cielo e la Terra, poi il racconto e il resto viene fatto per giorni, cioè scandito secondo dei concetti che l'uomo potesse capire. Questo è il punto. Anche perché come si poteva andare a parlare a uomini di millenni fa in termini di miliardi di anni? Guardate che presso le civiltà antiche, per esempio presso la civiltà greca, quando si voleva indicare un'età quasi infinita si diceva 10.000 anni. Già lì sembrava una cosa, miliardi di anni immaginatevi, non era qualcosa neanche di concepibile. E allora una cosa che noi apprendiamo è anche la differenza tra il conoscere, è già stata detta, è semplicemente una ripetizione con un altro linguaggio, tra conoscere Dio come auctor nature, cioè conoscere Dio come autore della natura, e subrazione dei tatis. Questa è una distinzione fondamentale in teologia. Anche le culture pagane, non tutte certo, e non tutti gli autori in esse presenti, giunsero a conoscere l'esistenza di Dio come legislatore. La rivelazione ci conduce a conoscere qualcosa di più, e cioè Dio, cosa vuol dire subrazione dei tatis, sotto la ragione della divinità stessa, della deità stessa, per esempio la Trinità. Usando la ragione, e basta, noi a concetto di Trinità non arriveremo mai. Ci arriviamo leggendo i Vangeli, ci arriviamo leggendo il messaggio rivelato. E questo Dio di cui si parla, tra l'altro, è anche un Dio absconditus, cosa vuol dire? È un Dio nascosto, che ha fatto un'opera che funziona, ma che noi, diceva che sono alcuni che richiedono proprio delle prove empiriche dell'esistenza di Dio. Abbiamo avuto Gesù, abbiamo i miracoli, li abbiamo tuttora, ma i miracoli non convinceranno mai gli scettici che hanno già deciso a priori di essere scettici. Non possiamo portare un esperimento scientifico per la dimostrazione empirica, cioè dell'esistenza di Dio. Quindi, Lemaitre diceva, io ho troppo rispetto di Dio per ridurlo ad un'ipotesi scientifica. Perché quando parlava dell'origine dell'universo, Lemaitre diceva, io come fisico non posso dire perché sia nato questo Big Bang, questa esplosione. Arrivo a quel punto, come fisico mi fermo lì. Da lì in poi deve prendere la parola un'altra disciplina, che per lui era chiaramente la metafisica. Ma io come fisico lì mi fermo, non ho più tracce, non posso più andare oltre. Rimane un punto di domanda. E allora dice, ma tu dici che Dio implicitamente, come scienziato empirico non lo posso dire, come metafisico magari sì, si tratta di una distinzione. E una cosa veramente interessante, qui vado oltre Lemaitre, è che comunque rimane un'infinita superiorità del creatore rispetto alla creazione. Uno dei dibattiti medioevali più interessanti, se ne furono tanti, ma fu la questione se Dio, creando il mondo, avesse esaurito tutta la sua onipotenza oppure no. Cioè Dio avrebbe potuto creare un mondo più perfetto così? Questa è una domanda veramente interessante che diede luogo ad un dibattito che coinvolse fra l'altro anche San Tommaso d'Aquino. Allora, secondo San Tommaso d'Aquino è chiaro, l'onnipotenza è infinita. Qualunque effetto prodotto da questa onipotenza non può egualiare l'onnipotenza, se non altro che per una cosa. E cioè che un universo, per quanto meraviglioso, infinito anche spazialmente possa essere, è comunque un'entità creata. L'onnipotenza, se di onipotenza si parla, invece è increata, non può essere creata l'onnipotenza, o esiste da sempre o non c'è. Altri autori invece successivamente avrebbero detto altro. Per esempio Spinoza, Baruch Spinoza, vissuto nel XVII secolo, e il giovane Immanuel Kant, che poi rinunciò a questa indagine, rinunciò, dissero, eh Dio deve aver creato per forza un universo infinito. Perché? Perché deve aver creato un universo infinito? Perché se no non sarebbe Dio. E perché non sarebbe Dio? Perché come posso pensare ad un Dio che usa soltanto una parte della sua potenza, no? Dando vita magari ad un universo finito con poche creature, e tutto il resto della potenza lo tiene per sé e non lo esprime. Beh, un ragionamento di questo tipo è quantomeno dubbio, nel senso che noi allora vincoliamo Dio ad una manifestazione della sua potenza in effetti pratici. Cioè, o Dio ci fa vedere tutto ciò che è, oppure non c'è, oppure è un Dio insomma a metà. Qui Sant'Omaso intervenne facendo una distinzione che io spiego in termini molto semplici, molto molto importante, che è quella tra la potenza attiva e la potenza passiva. La potenza attiva significa la possibilità di manifestare degli effetti che non aggiungono e non tolgono nulla a quello che già io sono. Dio non era obbligato a creare l'universo, l'ha fatto liberamente. Se uno legge i documenti del Concilio Vaticano I, poi viene fuori anche questo. Quindi Dio creò liberamente il mondo. Questa è la potenza attiva. La potenza passiva invece significa la possibilità di trasformarmi, di diventare altro o di dar vita ad altro, che porta me a maggior perfezione. Per esempio, il passaggio dal mio essere ignorante alla mia conoscenza, non lo so, di fisica studiando. Questa è una potenza passiva. Una volta che io avrò studiato e sarò diventato fisico, è un esempio che faccio, sarò più, fra virgolette per il termine può essere ambiguo, però filosoficamente ha un altro significato, più perfetto, fra virgolette, di prima. Sono mutato. Questo ragionamento per Dio non vale, perché in Dio potenza passiva non ce ne può essere. E allora abbiamo detto fisica Big Bang, metafisica la creazione. Ora, la creazione è l'unico dogma che la Chiesa abbia mai proclamato ufficialmente in campo cosmologico. l'unico presente nei documenti, che si è avvenuta miliardi di anni fa, milioni di anni fa, triliardi di anni fa. Questo non è importante. Quello che la Chiesa obbliga a credere, per il credente, per il cristiano, cattolico, eccetera, eccetera, è che l'universo sia stato creato. Dice letteralmente un documento del Concilio Vaticano I. Se qualcuno non confessa che Dio ha prodotto dal nulla il mondo e tutte le cose che esso contiene, spirituali e materiali, nella totalità della loro sostanza, o se dice che Dio le ha create non con una volontà libera da ogni necessità, ma tanto necessariamente quanto necessariamente ama se stesso, o se nega che il mondo sia stato creato per la gloria di Dio, sia anatema. Addirittura scomunica, scomunica, non è proprio una sanzione minimale. Ma alla creazione del mondo possiamo noi arrivare tramite la ragione? No. San Tommaso dice, a partire dal mondo, noi non possiamo, con le leggi naturali del mondo, arrivare alla creazione stessa del mondo. Noi siamo in un sistema che studiamo con le leggi di quel sistema stesso e con quelle leggi naturali non possiamo florescire dal sistema. Lettera agli ebrei, 11, 3, San Paolo. Per fede, noi pensiamo che il mondo è stato formato dalla parola di Dio, in modo che ciò che si vede non è sorto da cose che già apparivano. Per fede. Quando noi pensiamo alla creazione, a cosa pensiamo? A niente, perché non possiamo. Noi di certo abbiamo in mente la generazione, abbiamo in mente la produzione, la formazione, ma la creazione, il passaggio dal non essere all'essere. Tra l'altro già dire passaggio è sbagliato perché sembrerebbe trattarsi di movimento, non c'è nessun movimento, è un'altra cosa ancora, è un atto immediato, un flash quasi. Possiamo immaginarlo? No, assolutamente. Perciò figuratevi, non possiamo immaginarlo se la scienza possa conoscerla. Difatti è un atto inaccessibile alla scienza e all'intelletto. E qui io vorrei leggervi un passaggio di un discorso magnifico fatto da Papa Pio XII il 22 novembre 1951 davanti agli accademici della Pontificia Accademia delle Scienze. Ascoltate che trovo la pagina. Tra l'altro un'istituzione che raccoglieva scienziati di primo ordine, anche non cristiani, ad un certo punto, e dice allora se sta parlando del Big Bang, lui non fa mai il nome Big Bang, però sta parlando di quella teoria. Se si guarda indietro il tempo di questo processo dell'espansione dell'universo, perché secondo la teoria del Big Bang l'universo si starebbe espandendo a partire da questa esplosione, risulta che da 1 a 10 miliardi di anni fa, all'epoca si diceva massimo 10 miliardi, poi ci sono stati degli aggiustamenti, la materia di tutte le galassie si trovava compressa in uno spazio relativamente ristretto, allorché i processi cosmici ebbero principio. Processi cosmici, la materia si trovava compressa in uno spazio ristretto, oggi i fisici parlano di singolarità, pensate, un punto che conteneva l'universo intero. In vano si attenderebbe una risposta dalla scienza naturale, la quale anzi dichiara lealmente di trovarsi dinanzi ad un enigma insolubile. Questo Pio XII diceva la scienza che parla con condizioni di causa, perché? Perché qui c'è un paradosso, sono quasi alla fine, non preoccupatevi, c'è un paradosso che io vorrei mettere in luce. Allora, lo scienziato che vuole essere materialista assoluto, spesso è il primo a non essere materialista, perché? Perché parla di Big Bang, no? Ora la scienza non ci dice né cosa sia stato il Big Bang, perché quando noi pensiamo ad un'esplosione di luce sbagliamo, dal momento che scientificamente il Big Bang avvenne nell'oscurità, la luce non c'era ancora per una serie di ragioni fisiche. Parliamo quindi di un qualcosa che non conosciamo scientificamente, il materialista a volte dice non possiamo lasciare aperta una porta a un punto di domanda, perché la scienza non lo può accettare, allora quel Big Bang deve essere sorto da qualcos'altro. E sapete cosa si ipotizza? Si ipotizzano, ipotesi sono anche belle, affascinanti, però scientificamente insomma ci possono essere magari dei dubbi, che ci siano stati degli scontri fra delle membrane, in inglese si parla di brane, sarebbero delle dimensioni extracosmiche, comunque su internet che crea tanti problemi, ma è anche utile per studiare queste cose, si scontrarono chissà quando, lo scontro fra queste membrane diede vita al Big Bang e come ce ne fu uno, ce ne furono infiniti di altri, di altri. Ora, queste membrane scientificamente non sono sotto il nostro dominio, ma il materialista assoluto a volte va oltre la scienza stessa, la materia stessa, pur di rimanere nell'ambito della materia, deve postulare che ci sia stata un'origine materiale anche di quel Big Bang, che è un evento che noi non conosciamo. Giusto per far vedere che alla fine, come mi è capitato di dire ad una persona recentemente, e come io ogni volta ho sentito commentare ad un'altra persona, alla fine il materialista assoluto è un metafisico, perché va al di là della fisica. Quindi è un atto inaccessibile. E cosa dice Pio XII? È innegabile che una mente illuminata ed arricchita dalle moderne conoscenze scientifiche, la quale valuti serenamente questo problema, cioè dice, se noi ci portiamo all'inizio dei tempi dell'universo con serenità, cioè senza pregiudizi, è portata a rompere il cerchio di una materia del tutto indipendente e autoctona, o perché increata o perché creatasi da sé e a risalire, lui dice, ad uno spirito creatore. Ma attenzione, per evitare di attribuire a Pio XII l'equazione Big Bang uguale creazione, perché sennò Pio XII starebbe commettendo lo stesso errore che noi abbiamo riproverato, Pio XII fa un'aggiunta importantissima, dice è ben vero che della creazione nel tempo i fatti fin qui accertati non sono argomento di prova assoluta, come sono invece quegli attinti dalla metafisica e dalla rivelazione. Pio XII stesso dice che con la scienza noi alla creazione non arriviamo, ci serve qualcos'altro. Ora, questo universo, come diceva già Pio XII, reca le tracce della caducità, cioè del divenire, del mutamento, e sembra, secondo l'ipotesi che va per la maggiore, che sia destinato ad una morte. Fra un po' di tempo, ma nessuno di noi sarà vivo per accertarlo, perché si parla di triliardi di anni, miliardi e miliardi, l'universo esaurirà tutta l'energia in esso presente. Perché la seconda legge della termodinamica, che è quella dell'entropia, l'entropia vuol dire, specifica che tutte le forme di energia tendono a degradarsi nella forma più disordinata di energia, che è quella del calore. Per esempio, le stelle si esauriscono perché irradiano, convertono la loro massa ogni secondo in calore. Prima o poi il sole si esaurirà, terminerà la propria esistenza. Il problema è che questo calore non può più essere riutilizzato per dar vita, per innescare altre combustioni ed altre stelle. allora per quanto tempo passerà, perché ne passerà tanto, prima o poi tutte le fonti energetiche presenti nell'universo si saranno convertite in calore. E che cosa diverrà dell'universo? L'universo diverrà, dicono molti scienziati, un cimitero buio. Poi la teologia ci dice altro, ci parla di nuovi cieli, nuova terra, eccetera, eccetera. Su questo permane è il mistero. Certo è che io faccio presente che la rivelazione stessa ci dice che i cieli passeranno, Gesù Cristo ci dice stesso che i cieli e la terra passeranno, ma la mia parola non passerà. Quindi si ammette una caducità, una mortalità dell'universo. Tra l'altro, un'altra cosa interessante è che comunque noi uomini, davvero parlava prima Gian Pietro dell'introduzione di un antropocentrismo morale, non possiamo più rivendicare un geocentrismo fisico, perché chiunque andasse oggi in giro a dire che la terra è il centro dell'universo susciterebbe, io credo anche giustamente, l'ilarità generale. Quello era un modello scientifico antico, per alcuni versi medievali, che all'epoca funzionava bene per spiegare le osservazioni, ma poi scientificamente, e non siamo sul piano della rivelazione, siamo su un altro piano, è stato dismesso con il tempo. Però la nostra terra ha comunque delle proprietà che la rendono speciale. Non si parla di un geocentrismo fisico, ma di un geocentrismo di dignità morale. Io ve ne cito soltanto alcune che ho riportato, chiaramente non posso approfondirle tutte per ragioni di tempo. La distanza delle stelle dalla terra fa in modo che la terra non venga bruciata e possa vedere di questa alternanza tra il giorno e la notte. La posizione del sistema solare nella Via Lattea, anche. Il Sole, che è una stella ideale. Se il Sole fosse stato un po' più grosso, ma questo non è maurostenico a dirlo, sono i fisici, un po' più grosso di quanto ecce avrebbe bruciati. Se fosse stato un po' più piccolo saremmo morti congelati, non saremmo neanche mai nati. La velocità di rotazione della terra, addirittura bilanciata dalla Luna, che esercita una gravità e che fa rallentare. Se la rotazione fosse più veloce di quella attuale, le forme di vita presenti sul pianeta, per esempio le piante, non riceverebbero, a meno per come le conosciamo noi, una quantità sufficiente di luce per svilupparsi. L'inclinazione ideale dell'asse terrestre, rispetto al Sole, che consente l'alternanza delle stagioni per come noi le conosciamo. La distanza ideale della Terra dal Sole, va bene, questo l'abbiamo detto. La magnetosfera terrestre, che ci protegge dalle particelle del vento solare, che altrimenti ci distruggerebbero e che danno vita a quei fenomeni spettacolari, che sono le aurore boreali. È proprio il campo magnetico terrestre. L'orbita ideale della Terra rispetto al Sole, perché, dicono gli scienziati, un'orbita più ellittica, più schiacciata, sconvolgerebbe il clima del pianeta. La pesantezza ideale della Terra per la presenza dell'acqua. Il campo gravitazionale che la Terra esercita, che la Terra produce, è quello proprio adatto per la formazione dell'acqua, che su altri pianeti, non abbiamo. L'esistenza di un ciclo delle acque unico nel sistema solare. Poi per ognuno di questi punti io approfondisco, ma qua non entro in dettaglio. E anche un'altra cosa, il fatto che abbiamo un difensore cosmico, come un difensore cosmico, starà parlando di... no, no, Giove. Ma no Giove divinità, Giove il pianeta Giove. Data la sua enorme gravità, e uno basta che vada al 1994, una cometa che si schiantò su Giove frammentandosi in decine di pezzi, la Schumacher-Levy, se non sbaglio. Giove attira numerosi asteroidi che penetrano nel sistema solare e che potrebbero altrimenti costituire una minaccia per la Terra. Dove arrivo io dopo aver elencato queste cose? Che nel complesso esse, queste argomentazioni, compongono un argomento coerente per concludere ragionevolmente a favore, ragionevolmente, dell'esistenza di un progetto oculato rispetto al nostro pianeta. Lasciando a ciascuno trarre la propria conclusione, ci limitiamo a segnalare che a volte potrebbe risultare più irrazionale voler attribuire tutto forzosamente al caso, che non ammettere, come conclusione più probabile, un disegno intelligente alla base degli accadimenti cosmici. Cioè, dobbiamo sempre stare lì a dire, ma no, ma no, c'è qualcosa, magari la spiegazione va oltre il mondo stesso, magari sì. Poi parlo nel libro anche, in sostanza, della scala dei viventi, insomma, che è divisa tra i vegetali che sono completamente determinati sia per il loro obiettivo che per i modi per raggiungere l'obiettivo, riproduzione, in pratica alimentazione, eccetera. Gli animali irrazionali che scelgono magari il modo della loro operazione, per esempio il gatto che può decidere la strategia per arrivare al cibo, eccetera, eccetera, ma non è cosciente del suo fine stesso. Mangia, ma non conosce il fine come tale. Mangia, sa che deve mangiare, punto e basta. L'uomo invece è indeterminato, è indeterminato di per sé, sia al fine, deve riconoscere il fine e darsi da fare per raggiungerlo, che ha i mezzi. Questa è la libertà, questa è l'essenza della libertà. L'uomo ha anche delle proprietà che lo distinguono dagli altri esseri. Anche qua mi limito soltanto ad elencarle, chi ha voglia di approfondire naturalmente troverà tutti gli spunti. Un intelletto prima di tutto, capacità di apprendere, prevedere, progettare, studiare, ipotizzare, calcolare, insegnare, meditare, universalizzare, può dar vita ad una civiltà in sviluppo. Le scienze, la bomba atomica, questo è un esempio che io riprendo dal catechismo di San Pio X, certo ha degli effetti nocivi, però è il frutto della scienza. E ha anche la possibilità di adattarsi alle situazioni, no? E di cambiare il fine. Per esempio, dice il catechismo di San Pio X, il ragno, che non ha la ragione, tesse la sua tela in maniera perfetta, ma sempre allo stesso modo. La tela del ragno è un capolavoro, è un capolavoro di geometria, ma se fosse intelligente non la stenderebbe dove sarà disfatta dalla scopa della massaia, che invece fa ogni giorno, e tanto o meno la rifarebbe allo stesso posto, dopo che è stata distrutta. Il ragno agisce per istinto e senza intelligenza. L'uomo invece pensa, riflette, è cosciente di sé e sa quello che fa e deve fare. Trae esperienza dal passato, prevede il futuro nei limiti del possibile, chiaramente, lo previene, agisce per un fine conosciuto e evoluto, grazie al divino dono dell'intelligenza. Solo perché intelligente l'uomo ha attuato progressi sorprendenti, per esempio la medicina. Con la scienza noi possiamo uccidere, possiamo ingannare, ma possiamo anche migliorare, possiamo anche salvare. Una seconda proprietà è la volontà libera, noi abbiamo una volontà. Una terza proprietà è la personalità. Ciascuno di noi si distingue dagli altri uomini per una biografia, cosa che l'animale di per sé non ha. Tutti gli animali vivono nello stesso modo, a meno che non siano accompagnati dall'uomo e nella misura in cui risiedono con l'uomo, per esempio il cane. leggi morali e giuridiche. Gli animali hanno un sistema giuridico? Hanno delle leggi morali? Solo per la creatura umana, capace di essere padrona dei propri atti, ha senso l'esistenza di leggi e sanzioni. Come diavolo fate, altrimenti a punire, non so, un cane perché non ha pagato le tasse? Le virtù teologali e morali, la meditazione, la preghiera, la contemplazione, una cultura, la parola, la parola che è una cosa che noi diamo per scontati. Noi abbiamo la possibilità di usare un linguaggio codificato che ci permette di esprimere non soltanto sentimenti e stati danni, ma anche intenzioni, rappresentazioni del mondo, progetti, preghiere o un'altra facoltà, molto spesso, un'altra proprietà, molto spesso trascurata, però è interessante perché ci riguarda fin dalla tenera età, la capacità di ridere e di sorridere. Gli animali non ce l'hanno, il bambino invece dopo pochi giorni comincia a sorridere e per i genitori si spalanca in pratica un nuovo universo. Ma anche la capacità di ridere, il riso che possiamo usare o in maniera malvagia oppure per esprimere anche lì la gioia. La iena non ha una risata, ha quel movimento con quell'emissione strana. Bene, l'uomo è un composto di materia e forma, allora anche di questo per il momento concludo leggendo soltanto alcune considerazioni. Come possiamo dire che l'uomo abbia una materia, un corpo e una forma un'anima? non abbiamo esperimenti scientifici, però abbiamo alcune considerazioni. L'uomo ragiona innanzitutto. La capacità di ragionare è un accidente che suppone un fondamento, non un organo sensibile, non il corpo, ma una facoltà spirituale che fa capo ad un'anima. È un fatto poi che l'uomo sia cosciente di avere un corpo, ma anche che egli percepisca che la sua esistenza non si riduce ad esso, al corpo stesso. È un fatto che l'uomo esperimenti in sé stesso l'esistenza di due principi opposti, il dovere e il piacere. Se noi fossimo soltanto corpo agiremmo sulla base degli istinti. Invece abbiamo una ragione che ci porta anche a giudicare i nostri stessi istinti e a non cedere agli istinti. L'uomo sa poi che esistono in lui stesso due classi di fenomeni, fisiologici, la nutrizione, la digestione e psicologici, il ragionamento. Sono due classi di fenomeni troppo distinti per essere la stessa cosa. Il corpo umano muta nel corso del tempo, ma l'uomo comunque sa di essere lo stesso. Nell'uomo esiste un'inclinazione al bene immateriale, la virtù, l'onore, il rispetto del dovere. Se fosse un essere totalmente materiale, per esempio, che senso avrebbe parlare di senso del dovere? Essendo spirituale, vabbè questa è una considerazione che per il momento tralascio. E allora vorrei concludere, e proprio qui termino, con una citazione che trago da un astronomo della NASA, non stiamo parlando quindi dell'ultimo, John O'Keefe, morto nel 2000, dice, se l'universo non fosse stato fatto con la massima precisione, noi non saremmo mai potuti venire alla luce. Sono convinto che tali circostanze indichino come l'universo sia stato creato affinché l'uomo vivivesse. Vediamo dunque come la somiglianza tra la nostra cosmologia di oggi, quella dei teologi, non sia puramente accidentale. Vi ringrazio per la pazienza e chiedo scusa se non è stato troppo brutto. Semplicemente volevo ringraziare il nuovo tempo di questo crociera che abbiamo fatto per gli spazi siderali e anche un po' su quelli terrestri. Avete visto insomma che la conoscenza dell'uomo ci spalanca, ci spalanca dei panorami che sono colmi di altre domande e quindi si aprono a nuove domande e a nuove ricerche. In queste ricerche è facile smarrirsi se non si hanno dei parametri di guida. Questi parametri di guida non sono ovviamente dati dalla realtà materiale che ci circonda ma vengono da criteri che possono essere unicamente al di là della natura che sono quelli eterni, che sono quelli divini. Qui c'è spazio per qualche domanda perché ne avesse io credo che ci sono spunti a non finire. Sì una domanda la farei sinceramente. Prima dicevi che c'è chi sostiene che questo universo sarebbe così, creato o fatto per caso e che di questo caso non si capisce bene cosa vuol dire. Io credo che caso vuol dire non intenzionalità, quindi nel momento in cui qualcosa si è creato senza un'intenzione, quindi una volontà, quindi un creatore, quindi un legislatore e questo mette l'uomo in una certa condizione. Quali possono essere le conseguenze? Allora qual è la differenza tra il credere anche a livello filosofico, a livello politico, a livello giuridico, a livello proprio di costituzioni di società umane, tra il credere che c'è un creatore e il credere che invece l'universo si sia formato per caso. Quelle conseguenze, pratiche concrete. Ti ringrazio Elia perché è una domanda molto 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 interessante, molto importante. io credo che una cosa che distingua nettamente il creatore, scusate, chi ritiene che tutto sia derivato dal caso, da chi ritiene che ci sia un progetto, sia in primo luogo la credenza nell'esistenza di leggi immutabili, anche dal punto di vista morale. del cielo è che il lateo necessariamente deve essere malvagio dal punto di vista politico, deve essere uno schifo, assolutamente no. Possono esserci dei criteri di riferimento che però credo vadano oltre il suo sistema stesso, il sistema stesso del lateo. Ora chi crede che l'universo sia frutto di un progetto, ritiene che questo progettatore abbia anche dato delle leggi, leggi che poi applichiamo nella società e per le quali siamo anche disposti a morire, anche dal punto di vista politico, sociale, eccetera. Ora, io mi meraviglio sempre dell'esempio, prendo un esempio storico recente, la dittatura staliniana, nella quale qualsiasi minima deviazione filosofica dal credo del partito sarebbe stata punita con la morte e con l'incarcerazione, ebbene anche in quel regime ci furono autori stessi che giudicarono esattamente sbagliato ciò che stava accadendo, ma in nome di che cosa potevano farlo? Se l'ideologia comunista era veramente la nuova religione ed era essa stessa a dettare legge, in nome di qualcosa che andava al di là dell'ideologia stessa del momento, che si trattava magari di principi eterni, per esempio la difesa della vita rispetto a chi, come accadeva sotto Stalin, confessava la religione cristiana e proprio per questo veniva incarcerato e messo a morte. Poi tra l'altro una cosa che io contesto sul discorso dell'essere fatto a caso dell'universo è anche questa. L'universo funziona. Per far funzionare una cellula ci sarebbero bisogno di miliardi e miliardi e miliardi di tentativi, che tra l'altro non è neanche detto che andrebbero tutti a buon fine. Fred Hoyle, che era ateo, Fred Hoyle è morto nel 2001, era un astronomo inglese, molto famoso anche per alcuni romanzi, lui diceva io sono ateo, che poi non lo era veramente perché aveva anche lui un qualche sentore vago, però io non posso credere la teoria del brodo primordiale per la nascita della vita, perché se anche io prendo una piscina enorme, quanto si vuole, getto tutti elementi chimici in quantità voluta, voglio vedere quanto dovrebbe passare perché da quella materia inerte si generi la vita. Anche solo il passaggio tra materia inerte e materia vivente è un passaggio ontologicamente troppo grosso per la materia stessa. Questo è il difetto della teoria materialista. Quando il filosofo Friedrich Engels, che fu uno dei padri del marxismo, parlò della teoria dell'evoluzione dell'uomo, quindi da materia inerte a materia vivente, proteina, passaggio alla pianta, all'animale, all'uomo, eccetera, eccetera, e all'uomo nuovo quello comunista, che doveva arrivare, questo lo aggiunsero altri autori, Engels nella sua opera dialettica della natura diceva, però per il momento rimane ancora un problema, e cioè è che la scienza per ora non è ancora stata capace di dimostrare il passaggio dalla non vita alla vita. E lui concludeva dicendo, ma ci arriverà un giorno, ci arriverà, ci è arrivata? No. Grazie. È una forma di fede anche questa, è una forma di fede anche questa, è una forma di fede. Certo. Difatti, grazie Giampiero per questa considerazione, quella del comunismo, dici, nell'ideologia. La fede è la fede nel che la scienza risolverà tutto, spiegherà tutto, non è l'evidenza di questo, ma ci speri, ci credi, perché sicuramente avverrà. E difatti quella fede di cui parli ha un nome che è quella di scientismo, la fede cieca totale nello scientismo, la scienza per la scienza. Il problema è che la scienza deve essere anche guidata da dei valori, altrimenti se il fine della scienza fosse la scienza stessa, qualsiasi scoperta, anche la più avverrante, potrebbe essere legittimata, cosa che in effetti alcuni cercano di fare, no? L'uccisione nel gremo materno dei bambini, perché siamo ancora in grado, siamo adesso in grado di vedere se essi avranno o meno delle malformazioni genetiche, per esempio questo, è un esempio. Oppure ce ne potrebbero essere anche altri, le eutanasia, eccetera, eccetera, e altre scoperte e altre discussioni di questo tipo. Andiamo a domanda. Sì, salve, volevo chiedere che rapporto ha la Chiesa oggi con la scienza? Perché lei ha citato Pio XII, ha citato comunque grandi scienziati della nostra tradizione cattolica, ma mi sembra che oggi la Chiesa stia prendendo tutta un'altra deriva, che è quasi quella più sentimentale della captazze benevolentie, di questo quasi dal suo popore, per cui la scienza è qualcosa di diverso, noi siamo quelli che si vogliono bene e quindi il cristiano è quello che vuole bene a tutti, più che quello che cerca, lo scettico nel vero senso della parola, nel senso etimologico, con lui che va alla ricerca della verità. Ecco, quindi qual è il rapporto che oggi la Chiesa cattolica ha con la scienza e come si pone davanti da un lato a questo scientismo estremo e dall'altro a forme di fideismo idiota come quello di certi sette protestanti che cercano la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità è la Bibbia, tipo i testimoni di Geo ad esempio. Grazie. Magari io farei così, ne raccogliamo un po' di questioni se ci sono. Le risulta che già i sumeri sapevano della terra che girava attorno al sole? Ok. Tornando al Big Bang, può essere spiegato in termini di filosofia perenne come passaggio da potenza adatto e anche un'altra cosa, o energia che si fa materia. In questo caso non ci sarebbe contraddizione tra scienza e le vie di creazione. Poi un'altra cosa che secondo me di cui nessuno parla ma è cromorosissima, cioè il fatto che adesso con gli studi sul genoma del genere umano si è scoperto che tutta l'umanità deriva da una coppia originale, unica, che noi abbiamo sempre chiamato Adam e Eva e che pensiamo al positivismo, al materialismo, eccetera, davanti all'immense varietà di tipologie umane che erano impressionanti di abitanti. insomma ipotizzare che tutto questo venisse da una coppia era solo un atto di fede cieca perché era contro qualsiasi buon senso. Oggi la scienza ti dice che tutta l'umanità viene da una coppia e te lo dice la scienza e noi stiamo zitti, noi abbiamo subito per secoli e degli ultimi decenni in particolare umiliazioni tremende, il nome dell'oscurantismo che avremmo noi, invece l'oscurantismo si è rivelato che era quello di tipo esecutore. Prima poligenismo e monogenismo. no, perché c'è questo silenzio assolutamente, perché non diciamo, diciamo, avete visto finalmente che le cose sono scientificamente secondo quello che noi dicevamo per fede? Una domanda, lei ha fatto delle argomentazioni dialettiche sul fatto del più o del nero del sole, se è la più o meno caldo, quindi quelli che sono messi da fare. La mia domanda è questa, non è che questo in fondo nasconde in maniera intrinseca già un altro concentrismo, questa maniera di pensare, nel senso che non è che l'uomo, essendo nato da queste circostanze che io chiamerei filosoficamente accidenti, può venire a pensare ok, sono stato creato io che sono la cosa più importante, tutte le cose sono state fatte per me, quindi tutto è stato fatto in vista di me, non di Gesù Cristo, facendo la parola preservare il Vangelo. E quindi, uno potrebbe pensare, se altre creature come noi pensassero in giro per l'universo la stessa cosa, quanti dei ci sarebbero? Massa? Magari poi possono anche sorgere altre domande. Beh, io innanzitutto ringrazio chi ha fatto le domande, perché ha messo avanti veramente delle questioni anche intriganti, oserei dire, oltre che affascinanti, intriganti proprio nel senso bello del termine, cioè proprio che stimolano l'intelletto. Allora, vengo al rapporto tra scienza e chiesa di oggi. Allora, io pongo una distinzione, siccome mi è capitato anche di parlare con membri della Pontificia Università della Santa Croce, eccetera, non facciamo il blocco assoluto del sentimentalismo lì e noi da un'altra parte. Io vi faccio presente che anche nella chiesa di oggi, dove molti, è vero, sono magari portati al sentimentalismo, alla captatio benevolente, no, veniteci incontro, mantengono anche un atteggiamento abbastanza critico nei confronti della scienza e che anche filosofico, nel senso che la scienza viene ancora vista come un veicolo che ci porta delle argomentazioni razionali sull'esistenza di Dio. Uno, per esempio, è il Big Bang, cioè la chiesa in alcune sue istituzioni e in molte delle sue persone, nonostante si sappia della situazione attuale, quello senz'altro dal punto vista teologico, è ancora ricca di persone, di scienziati che parlano del rapporto tra scienza e fede in maniera proprio di, non dico concordismo, perché forse concordismo vuol dire proprio cercare di metterle sullo stesso livello, ma di possibilità di armonia. Quello che dicevano papi come Pio 11, Pio 12, eccetera, sul dialogo tra scienza e fede, dialogo nel senso che non si contraddicono, è tuttora attuale. Poi certo si trova l'estremo, l'estremista anche in questo caso essendo persona, che dice, ah ma no, ma assolutamente non possiamo mettere noi il naso nelle scienze perché poi ci fanno venire dubbi sulla fede. Questo non è vero. La scienza naturale ci mostra la ricchezza del genoma umano, ci mostra la vastità dell'universo, ci mostra la vastità degli elementi periodici, ma tutte queste cose non negano in nessun modo Dio. Anzi, e mi riallaccio ad una delle ultime questioni poste, cosa possiamo dire sulla eventuale esistenza di altre forme di vita nell'universo, che è anche un argomento che va molto di moda oggi? Ebbene, Édouard Hugon, che fu un filosofo francese, sacerdote tra l'altro cattolico di inizio novecento, nel suo libro intitolato, lui scrisse in latino ma è stato recentemente tradotto in inglese, in italiano non esiste ancora, nel suo libro intitolato Cosmologia, Cosmologia dice che il Vangelo semplicemente non parla di altre forme di vita nell'universo, non parla ma non le nega. Se il Dio ha ritenuto in qualsiasi modo opportuno dar vita o no, questo in nessun modo intacca la fede. Sappiamo che noi uomini abbiamo avuto la caduta rappresentata dal peccato originale, che ha richiesto l'intervento di un'incarnazione per la nostra salvezza, eccetera, eccetera, sulle altre forme di vita, che non è neanche detto che siano razionali tra l'altro, perché bisogna anche vedere eventualmente che tipo di forme di vita, ma siamo sempre a livello dell'ipotesi, della pura possibilità, noi nulla sappiamo e nulla possiamo dire. Ma troviamo un sacco di autori cattolici, anche molto tradizionalisti, all'inizio del Novecento, che appunto parlano senza problemi della possibilità di esistenza di altre forme di vita nell'universo. Dopodiché la questione dell'antropocentrismo presunto, cioè noi siamo nati qui sulla Terra e abbiamo tutte queste proprietà della Terra rispetto al sistema solare, quindi semplicemente è un caso che ci siano queste proprietà che potrebbero essere accadute. Sì, può darsi che siano accadute da altre parti, ma per quello che noi sappiamo di sicuro è accaduto qui, questo schema con questa Terra, con queste proprietà. Poi, dal punto di vista della possibilità, può darsi che, ma intanto qui abbiamo la certezza, lì siamo su due livelli di ragionamento distinti. Altra cosa interessante, dunque si è parlato della presenza di teorie eleocentriche presso le civiltà antiche. Non occorre spostarci presso i Sumeri, presso i Babilonesi, basta andare nell'antica Grecia, quindi si parla dei primordi della filosofia occidentale, addirittura rimaniamo in Italia, andiamo a Crotone, andiamo a Siracusa, dove abbiamo i Pitagorici e fra di loro abbiamo alcuni personaggi, per esempio i Ceta o i Cfantu di Siracusa, che parlano addirittura già della rotazione della Terra, che non era certo il modello dominante. Se ci spostiamo poi presso Alessandria ad Egitto, e siamo se non sbaglio nel III secolo a.C., troviamo Aristarco, che teorizza non solo la centralità del Sole, ma il movimento della Terra attorno al Sole e il movimento della Terra su se stessa. Quindi questo scontro tra geocentrismo e del geocentrismo esiste già dall'antichità. Problema, problema. Perché trionfò la filosofia del geocentrismo? Perché i sensi, per la scienza dell'epoca, davano delle obiezioni che allora parevano irrisolvibili. Per esempio, dicevano, se la Terra ruotasse attorno al Sole, la posizione delle stelle nella volta celeste, a seconda del periodo dell'anno, dovrebbe variare. Invece noi vediamo che gli astri rimangono sempre nello stesso punto. In realtà questo spostamento degli astri avviene veramente, perché noi ruotiamo attorno al Sole, sei mesi siamo da una parte, sei mesi dopo dall'altra parte, solo che è troppo piccolo per essere percettibili a occhio nudo. Ci vogliono degli strumenti. oppure ancora, se la Terra ruotasse, le nuvole, gli uccelli, eccetera, dovrebbero essere lasciati indietro mentre la Terra gira. E gli uomini dovrebbero cadere a Terra. Cioè, si diceva, farebbero fatica anche solo a rimanere in piedi se la Terra ruotasse. In realtà, la risposta che dà la scienza moderna, e questa è la scienza moderna che può rispondere a questo, è che noi rappresentiamo un sistema unico con l'atmosfera, quindi tutto ciò che è nell'atmosfera e l'atmosfera si muove contestualmente al pianeta. Si chiama principio di relatività, questo, Galileiano. Non la relatività di Einstein, che è un'altra cosa. Relatività Galileiano. Galilei, nel dialogo sui massimi sistemi, fa questo esempio, dice, inserratevi con qualche vostro amico all'interno di una nave che viaggia a velocità uniforme, come la Terra, perché se non fosse uniforme allora ci potremmo accorgere, su un fiume. Immaginiamoci all'interno, noi, dagli effetti che ci circondano, un pesce in alcune bocce d'acqua, l'acqua che cade dall'alto in un vaso sotto, non ci accorgeremo di nulla, non potremmo distinguere se fossimo fermi o in movimento. Perché? Perché tutti questi fenomeni avverrebbero esattamente come prima, anche qualora fossimo in movimento. Quindi dall'interno di un sistema di cui noi siamo parte, senza riferimenti esterni precisi, non siamo in grado di capire il nostro movimento o non movimento. E poi un'altra domanda molto molto interessante è stata fatta sul Big Bang, il passaggio dalla potenza all'atto. Questo è un punto decisivo. Primo, cos'è il Big Bang? Non lo sappiamo. Gli scienziati dall'espansione dell'universo inferiscono, retrocedendo, che tutta l'energia, tutta la massa fosse raccolta in questo punto, che noi non abbiamo mai visto. Ho detto prima, noi immaginiamo questo Big Bang come un'esplosione di luce. Bene, ma la luce non c'era. Sorse solo 300.000 anni dopo il Big Bang, per una serie di ragioni fisiche. Secondo, è anche difficile visualizzare il Big Bang, perché come diavolo facciamo a pensare a tutto l'universo compresso in un punto? La nostra immaginazione si arresta. Quindi è un tipo di scienza matematica, fisica, che ci porta lì, che va al di là della nostra stessa immaginazione. Però il punto decisivo che ha menzionato lei è questo, che il Big Bang sia stata l'energia quale si vuole. Certo fu un evento che non poter accendersi da sé, perché se no si sarebbe acceso da tutta l'eternità e l'universo dovrebbe essere eterno. Ma l'esistenza di stelle, galassie, processi fisici ancora in corso, ci dimostra che l'universo non è eterno, se no l'energia sarebbe estinta da tempo infinito. Può una potenza, una pura energia statica, immaginiamola così, passare da sola all'atto? No, se no l'avrebbe fatto. Allora ci vuole, la filosofia scolastica insegna questo, una causa che è già in atto per far passare una potenza all'atto. Ora su questa causa già in atto la scienza nulla può dirci. Ecco, poi la domanda era, l'intervento si era concluso dicendo, io non vedo difficoltà tra scienza e fede, cioè non ci sono difficoltà di... beh certo, di fatti non ce ne sono. Di fatti nulla è più oscorantista del dire che la scienza non debba ancora progredire, no? E che cose come il miracolo e l'oltre non debbano esistere. Perché la scienza su quelle cose lì non può mettere le mani, né ha mai dimostrato che l'oltre non esista. Non può farlo perché ha dei limiti. La scienza giudica dall'interno del suo stesso sistema che è il mondo. Sull'extramondo la scienza non è in grado di giudicare. E se lo scienziato naturale vuole dire che l'unica realtà esistente è quella della materia, allora attenzione, sta commettendo un errore, questo va detto, di trasformare il metodo in una realtà, cioè, spieghiamo, la scienza empirica ha un metodo che si interessa di che cosa? Di realtà empiriche, gli elementi chimici, i corpi, eccetera, eccetera. Quello è il metodo. Ma non possiamo dire che perché la scienza usa quel metodo, allora il contenuto del metodo, cioè i corpi fisici, siano l'unica cosa esistente in assoluto. Perché questa è una conclusione indepita. Ah, visto che siamo qua, su questo io devo ringraziare, su quest'ultimissimo passaggio che ho fatto, del metodo, eccetera, sono proprio grato alla Pontificia Università della Santa Croce che con la scuola Sisri, che è una scuola fatta di giovani che veramente hanno interesse ad approfondire il rapporto tra scienza e fede, ha tenuto recentemente un convegno proprio sul naturalismo e sul materialismo delle scienze e si è posta la domanda e ha formato gruppi di lavori formati da giuristi, avvocati, giuristi, filosofi, letterati, eccetera, fisici, medici, tutti giovani e si è posta una domanda. Le scienze naturali attuali conducono necessariamente al materialismo e al naturalismo? Ecco, la risposta è stata da quello che è emerso dall'analisi di questi gruppi di lavoro. No. Siamo stati assicurati nelle nostre convinzioni, immagino che fossero le convinzioni comune. Un'altra cosa interessante dopo questa conferenza è che abbiamo capito per quale motivo l'hanno fatto sindaco, perché lui è in grado di rispondere a qualsiasi tipo di dubbio che possa sorgere nella comunità. La politica è un'altra cosa, è un terreno un po' più difficile della filosofia. Bene, allora chiudiamo qui questo incontro. Vi ricordo che sul banco in fondo ci sono dei libri per chi volesse acquistare e se siete interessati all'attività del Centro Studi Federici potete lasciare il vostro indirizzo, l'unico di telefono, insomma, oppure email su un foglietto che avrete interessato. Grazie. Grazie, buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.